Ciao da Avsim, ma non è possibile, veramente non è possibile quello che è successo stasera tra Liverpool-Napoli e PSV-Inter. Due partite clamorose e assurde. Io onestamente ho guardato solo la partita del Napoli, ma ho seguito tramite SofaScore, che tra l'altro vi invito a scaricare dal primo link nella descrizione qui sotto il video, anche la partita dell'Inter che è stata clamorosa. L'Inter ha fatto qualcosa come 10 tiri in porta, non so onestamente, credo ci sia stato proprio un assalto finale, ma sono fuori tutte e due. Io questo non riesco a spiegarmi come sia possibile, davvero. Erano comunque entrambe ad un passo dalla qualificazione. Si era detto più facile per l'Inter perché aveva una sfida sulla carta più semplice, il Napoli doveva andare ad Anfield. Io sostenevo, sempre sostenuto, fosse più facile per il Napoli perché oggettivamente aveva più risultati a favore. Cioè il Napoli poteva passare anche con la sconfitta, tranne l'1-0, ma con il 2-1 sotto, il 3-2, tutte le sconfitte di misura. Tranne l'1-0 sarebbe passato il Napoli, oltre al pareggio e naturalmente la vittoria. Mentre l'Inter, anche vincendo, doveva aspettare il risultato di Barcellona-Tottenham. Ebbene, la dinamica della serata è stata veramente clamorosa perché intanto il PSG ha dilagato, ha preso il largo quasi subito, assicurandosi, insomma, di non entrare in problemi e di non dover fare calcoli. Il Napoli a quel punto sapeva di dover fare la sua partita per provare a fare un gol, perché con un gol poi il Liverpool sarebbe stato costretto a farne tre totali. E invece il Napoli ha sprecato quelle due o tre, due o tre occasioni che è riuscito a creare, perché due o tre occasioni sono state grossomodo, e soprattutto nel secondo tempo alla fine chiaramente sale l'ansia, non riesce a fare gol e amen, vai a casa. Quindi scende in Europa League il Napoli, che non meritava probabilmente di scendere in Europa League. Sicuramente il Napoli non meritava di scendere in Europa League, forse lo meritava l'Inter, perché una squadra che è andata sempre in svantaggio in tutte e sei le partite del girone, che ha comunque arrancato in tante partite, che l'ha ripresa alla fine, poi ok, ha pareggiato una delle due sfide col Barcellona, ma a questo punto è stata punita per la sconfitta con il Tottenham. Era lo scenario più apocalittico quello che è successo stasera tra Napoli e Inter. Napoli che perde 1-0 e va in Europa League, e l'Inter che si limita a fare... Ma a questo punto dico io, ma meglio perdere, a questo punto meglio perdere, perché venire eliminata per aver fatto lo stesso risultato del Tottenham dall'altra parte, e quindi venire eliminata a pari punti soltanto perché hai perso lo scontro diretto, è veramente una fregatura clamorosa. Ma è una fregatura che a questo punto deve far riflettere, perché siamo qui sempre a discutere, anche a non dare i giusti meriti alla Juventus, e dimentichiamo quante volte è la Juventus che porta avanti il calcio in Italia, il calcio delano in Europa, che porta alto il nome dell'Italia in Europa. E poi ci ritroviamo costantemente in queste situazioni. Questa era la prima Champions League con quattro italiane qualificate senza preliminari, ci ritroviamo a febbraio, quando riprenderà con gli ottavi, con sole due italiane in corsa. È una cosa veramente insostenibile. Bisogna fare me la colpa a questo punto. Poi io credo che i giocatori del Napoli siano stati anche un po' confusi dalle dichiarazioni della vigilia e dell'ambiente, perché Ancelotti aveva detto già giorni fa, se non ci qualifichiamo siamo dei coglioni, oggi se ne esce De Laurentiis, se non ci qualifichiamo non succede nulla, non cambia nulla, va bene uguale, Allora io a chi devo credere? Cosa devo pensare? Che la qualificazione sia un risultato fondamentale o che non serve a niente? Che l'Europa League va bene uguale? Io credo che il Napoli a questo punto abbia subito una batossa, sia fortemente ridimensionata negli obiettivi stagionali, per quanto comunque il Napoli punta sempre allo scudetto o comunque quantomeno al secondo posto, però poteva sinceramente farsi degli ottavi di finale dignitosi, magari anche puntare al record storico della sua storia, cioè di arrivare ai quarti che non ha mai raggiunto, e invece peggio dell'anno scorso. Adesso non ricordo, anzi mi sfugge, l'anno scorso comunque mi sembra che gli ottavi li ha fatti, ma in ogni caso è comunque un risultato che non ci si aspettava, sinceramente dal Napoli no. L'Inter partita da quarta fascia, mancava dalla Champions da sei anni, il girone era proibitivo, poteva veramente finire così, però per come si era messa, per quello che poteva fare l'Inter alla vigilia di questa partita, veramente no. Poi appunto il Tottenham va a pareggiare, neanche a vincere, e a te tocca praticamente semplicemente fare un altro gol, non lo riesci a fare, e la cosa è veramente clamorosa. Comunque era Inter-PSV, non PSV-Inter, come ho detto all'inizio. Quindi veramente una grande delusione per quanto mi riguarda da tifoso italiano, di calcio italiano. Poi, parlando da Juventino, devo dire che questo tra l'altro è un tiro mancino da parte di entrambe le squadre, perché se il Napoli e l'Inter si fossero qualificati da seconde, la Juventus avrebbe evitato inevitabilmente il Liverpool e o il Tottenham, eventualmente anche il Paris Saint-Germain. Invece adesso la Juventus potrà pescare sia il Tottenham, sia il Liverpool, ed anche l'Atletico Madrid, che intanto pareggiando col Bruges è finita seconda nel girone dietro al Borussia Dortmund, che è primo, questo sempre se la Juventus domani andrà a vincere, conquistando quindi il primo posto del girone. Insomma, peggio di così, veramente non si poteva. Secondo me, alla fine, chi è andato meglio è stata la Roma. Ovviamente, poi insomma, bisognerà vedere i sorteggi che ci saranno venerdì per gli ottavi, però alla fine la Roma scampa, si scampa diverse inglesi che possono essere toste. Anche il Manchester salta tutte le inglesi, la Roma praticamente. E va bene, è una serata deludente per il calcio italiano e sinceramente sono molto deluso per quello che si è visto e ripeto, bisogna riflettere a questo punto a livello di programmazione perché così non va. Ci si riempie troppo la bocca di parole, di chiacchiere, poi alla fine i risultati mancano. Ditemi come la pensate, ci vediamo nei commenti e molto presto con un nuovo video e sempre Forza Juve! Grazie! 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 Grazie!